Da Marino Bartoletti a Francesco Guccini, da Marina Rei a Teoteocoli, passando per Bussola, Galimberti, Livi, Giulia Baldelli e Gabriella Mancini. E' questa la rosa di nomi che caratterizzerà la prima edizione di Come un libro all'aperto. Prima edizione di una rassegna letteraria diffusa che contrassegnerà l'estate del Comune di Mondolfo da giovedì 16 giugno fino al 7 luglio. Tanti eventi nel ricco programma delle manifestazioni estive. Tra gli eventi più importanti c'è proprio Come un libro all'aperto, che è una rassegna letteraria a cui abbiamo creduto molto come amministrazione comunale. Tanti gli ospiti di questa prima edizione. Ci attendiamo tante persone che vengano a partecipare a questi appuntamenti importanti. Tema della prima edizione sarà Leggeri e pensanti. Leggeri e pensanti è il tema appunto di questa prima edizione e quindi la lettura e i libri come risorse per poter guardare in modo leggero ma non superficiale la realtà. Quindi leggerla, osservarla e anche interpretarla per poi viverci dentro. Quindi abbiamo pensato, considerando anche i due anni da cui arriviamo tutti, il tema della leggerezza credo che sia un tema importante, quello di ritrovarsi, ma non va mai confuso, di ritrovarsi e aggregarsi in modo, come dire, positivo. Abbiamo dato in questi ultimi due anni una connotazione negativa. L'aggregazione invece è l'idea che possano essere i libri lo strumento di aggregazione, che la leggerezza non venga confusa con la superficialità, ma solamente una chiave di lettura della realtà. Come un libro all'aperto sarà caratterizzato da scrittori che declineranno ogni sfaccettatura culturale. Davvero tanti gli scrittori coinvolti in questa prima edizione e devo dire scrittori, autori e personaggi che coinvolgono i diversi ambiti della cultura, nelle sue diverse declinazioni, dallo sport alla comicità, avremo Teo Teocoli, Marino Bartoletti, uno scrittore come Matteo Bussoli e diversi altri. Ci sarà anche Marina Rei e poi Galimberti e il rischio poi di non ricordarmeli tutti, ma nel programma sono evidenti i loro nomi ed è evidente anche la loro fama e il loro valore. Apertura giovedì 16 giugno con Matteo Bussola e il tempo di tornare a casa. La rassegna si aprirà appunto giovedì 16 giugno con Matteo Bussola, scrittore, fumettista, conduttore radiofonico e verrà a presentare il suo ultimo libro che è il tempo di tornare a casa, ma ci riserverà anche una bella sorpresa che nel momento in cui la dirò non sarà più una sorpresa, però vale la pena dirla, nel senso che il 28 giugno uscirà il suo nuovo libro. Quindi questo libro che è attualmente solo prenotabile, è già in vetta tutte le classifiche e ci ha assicurato che durante la presentazione del 16 parleremo anche di questo nuovo libro. Nuovo libro dal titolo Il Rosmarino non capisce l'inverno, che aprirà un festival che alternerà grandi nomi ad alcune chicche tutte da scoprire. Abbiamo anche autori come Roberto Livi e Giulia Baldelli, che sono due autori che personalmente ho scoperto da un po' di tempo e me ne sono innamorato, di quegli autori che quando leggi il loro primo libro, nel caso di Roberto Livi, non vedi l'ora di leggere anche il secondo. Per quanto riguarda la Baldelli invece è un libro d'esordio ed è una storia fantastica, una storia curata, una storia che racconta la vita quotidiana di due ragazze ed è stata veramente una bellissima scoperta. Quindi quando le abbiamo inseriti, quando ci siamo resi conto di poterli inserire all'interno della rassegna, ne siamo stati veramente molto felici. Evento nell'evento, la cittadinanza onoraria a Francesco Guccini. Un evento atteso da tutta la nostra comunità e sarà un momento davvero di festa per tutta la città. In piazza del Comune il 25 giugno avremo l'abbraccio di tutta la comunità di Mondolfo e Marotta al noto cantautore.